Shepard? Sono sgattaiolato nell'alloggio del Capitano. Un grosso rischio, ma il premio in palio... Mi chiedevo quando saresti arrivato. Che intenzioni hai, Jacob? Intendo ridurre i collettori in mille pezzi, a costo di rimetterci la vita. Ma prima... voglio godermi il poco tempo che mi resta. Vincere. Perdere. Non importa. Voglio te. Allora sfruttiamo ogni minuto che ci resta, signor Taylor. Lo so. Lo so. Lo so. Lo so. Lo so. Lo so. Grazie a tutti.